Io non so cosa mi possa per la testa che alle 3 e mezzo sono qua registrato in review Poi non dite che non vi voglio bene Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio canale e benvenuti in questo video notturno Anche se per voi è mezzogiorno Siamo qua per analizzare Quagliarella, versione Foot Captains e Insigne, stessa versione Ovviamente se ve lo siete persi era analizzato tutto il Team 1 Compresi tutti gli release nuovi di tutte le carte del Team appunto Cliccate sulla i per recuperare il video Lasciate un cazzo di like E niente quindi un po' come al solito analizzeremo in game e off game come sono queste due carte Li compro, li provo nella mia serie A Sapete ormai che ho una serie A full, la utilizzo in Weekend League Per quel poco che gioco anche in divisione E niente quindi vediamo un po' come si comportano E non dimenticatevi anche che se volete far parte dell'episodio nuovo del Focce Voste Squadre Con il prossimo ospite Andatevi a recuperare il video cliccando sulla i con Danioff del Focce Voste Squadre Dove potete lasciare nei commenti la vostra squadra E comunque supportare il video se volete Cliccate sulla i Bene andiamo a vedere adesso però come sono off game Con tutte le ultime forze che mi sono rimaste queste carte Volevo tenermi a incominciare Volevo incominciare da Volevo incominciare a tenermi dei pacchetti per i Toz Ma fa un culo mi servono crediti Insomma che merda Dio ma che merda Porca Ma porca butta Porco zio non vale più un cazzo Nel motivo per cui la gente conosce il Messico per scappare Dopo interminabili acquisti Ecco voi Insigne E Quagliarella Insigne ovviamente lo gireremo Lo metteremo a sinistra Per sfruttare il suo tiragire Il COS lo può fare perfettamente C'è un tiragiro pazzesco In termini di velocità Vediamo accelerazione 98 Che è tanta roba Velocità scatto 92 Dovrebbe essere un giocatore Che raggiunge veramente molto rapidamente Un'ottima velocità scatto Unito Una fluidità di movimento pazzesca Dovrebbero renderlo un funambulo Molto molto difficile da sostenere in fase difensiva Perché è davvero rapido Unito al dribbling E il controllo Che lo rendono davvero imprevedibile Non ha 5 skill Quindi sicuramente è limitato in questo Ma comunque Grazie alla sua fluidità di movimento E la sua agilità E generalmente anche l'equilibrio Perché comunque fa una gran parte Dovrebbe renderlo davvero difficile da marcare In termini di tiro Non mi aspetto un finalizzatore d'aria Mi aspetto più un giocatore Che da fuori aria Col tiro a distanza L'effetto che ha Il tiro di precisione Il tiro a giro Che roba sua Diventi comunque Una carta Che va controllata E di cui si può avere paura Per via della sua capacità Di finalizzare a giro Veramente in maniera facile Poi è un giocatore Di impostazione elevata Perché passaggio 5 E passaggio lungo Sono veramente ottimi E la visione pure Di conseguenza Dovrebbe essere un giocatore In grado di impostare Sia nello stretto Negli ultimi metri Che comunque anche grandi distanze Con un ottimo effetto E unito anche a Beh c'è anche class Alte robine Però insomma È una carta davvero validissima Vediamo come si comporta in game Quagliarella Differente a un 4-4 Bisogna vedere l'accelerazione Unita alla sua agilità E al suo boite Solo rendono un giocatore Un po' trancheggiante O se riesce comunque A essere un giocatore agile E fluido Che gli permette Di essere davvero difficile A marcare Oppure se diventa tronco E quindi si automarca da solo Dovrebbe essere un gran finalizzatore Con un posizionamento Davvero intelligente In grado di inserirsi Stare tra le linee In maniera davvero Impervedibile Dovrebbe essere uno Dei pochi attaccanti Che vedo che finalmente Sa passare il pallone Insieme agli ultimi metri Ma anche comunque Con dei buonissimi passaggi Da distanza E ha anche un ottimo tiro a giro E dribbling Per il resto Scudendo l'agilità Di cui dobbiamo valutare La sua fluidità di movimento Dovrebbe rimanere E permanere Ad essere un giocatore Comunque con un controllo eccezionale Molto bravo nel dribbling Molto valido In termini comunque Di gestione del pallone Dovrebbe saper mettere Anche un po' di fisico Essere molto preciso Quando colpisce i test Anche se non stacca tantissimo E resistente Da reggere comunque Abbastanza la gara Senza grandissimi problemi Partiamo da Quagliarella Che è la carta forse Che ha ricevuto anche Il maggior interesse Rispetto a quello Che ho letto nei commenti È un giocatore Che ha una corsa Non incredibile Quindi Innanzitutto Non è quella carta Che prendete E correte come i matti Se siete a parità Col difensore O se avete Se avete modo Di prendere un vantaggio In velocità Non è quel genere Di giocatore Sicuramente Quando fa uno scatto E prende lo spazio Riesce magari a mantenere Un minimo la distanza Ma non è un giocatore Su cui puntare Sulla velocità effettiva Che raggiunge O che non raggiunge Perché in entrambi i casi Sia sul lungo tratto Che nel corto Non ho mai visto Raggiungere velocità Così imprendibili Dal punto di vista Finalizzativo La prima partita Mi stavo facendo Dei dubbi Perché ho visto Qualche traversa Di troppo Mi era venuto Qualche dubbio Che magari Non fosse perfetto E invece In termini finalizzativi È veramente Un giocatore Veramente molto valido Perché quando tira Tira delle botte Allucinanti È molto preciso Di mancino di destro Si deve tirare al volo E tutto quanto Anche da fuori area Tira delle belle botte Non di precisione Ma di potenza Per cui Da quel punto di vista È molto affidabile È talmente affidabile In termini finalizzativi Che l'ho visto Anche portare Un giocatore avversario A fare autogol Quindi da questo punto di vista Non è affatto male Poi è un buon giocatore Anche in fase di impostazione Si vede assolutamente Che ha un buon passaggio Si vede che ha un buon piede Che sa impostare Riesce a mandare In area diverse volte I compagni A comunque Finalizzare Non solo segnando Ma anche Costruendo l'assist finale Per chiudere l'azione Quindi anche qua Riesce a dare un valore aggiunto Così come nel dribbling Non è incredibile Non aspettatevi Una fluidità Di movimento assurda Non è leggerissimo Me lo aspettavo peggio Si riesce a girare Si riesce A gestire il pallone A dribblare un minimo Però non è leggerissimo E ho giocato Con un gameplay fluidoso Immaginare Quando il gameplay diventa pesante Quanto possa diventare tronco Quindi Tenete presente queste parole Non è un giocatore Non è un giocatore Da dribbling incredibile È un giocatore Da uscire nel modo giusto Tira una botta E segni Poi di testa È particolarmente Inutile Perché quando si tratta Di staccare Fa mezzo saltino Da coglione Che non stacca per niente E non la piglia mai Manco per il cazzo Non ho visto Se è in grado Di prendere Immagino sia preciso Ma non me l'ha presa una volta Quindi di conseguenza Ve i consiglio O non vi consiglio Questo qua Quagliarella Allora Al momento gira Più o meno Io perlomeno L'ho acquistato A 123.000 crediti È una carta Che sicuramente Ha le sue qualità Non so dirvi Se è una carta Che è necessaria Da sbloccare Considerando che La maggior parte Degli attaccanti attuali Escludendo il top Del top Ovvero Ibrahimovic E praticamente Di bala Tutto il resto Era SBC obiettivo Blaovic Non lo considero Perché mi fa cagare E quindi di conseguenza Questo quagliarella Sicuramente Trova il suo spazio A un prezzo Comunque Accessibile È competitivo Anche in vista Tots Può essere una carta Almeno da quei Tots Che può tirare avanti Il carro Ora Non è un giocatore Definitivo Non è un giocatore Perfetto Ma per tanti In particolare Per chi non schilla Può essere un'ottima carta E può essere affidabile Stile intesa Vi consiglio Di utilizzare il motore Quello che ho utilizzato io Mi ci sono entrato abbastanza bene Perché gli migliora Un po' di equilibrio Un po' di dribbling Un po' di agilità Un po' di accelerazione Un po' di velocità E un po' di passaggi Tanto in finalizzazione Non ha bisogno Fisicamente già regge Di testa Tanto non colpisce Quindi secondo me Questo è lo stile Intesa giusto Parliamo invece Del suo amico Tirogir Insigne Non corre manco Per il cazzo Si accelera Vi dà l'impressione Di prendere tanto spazio In poco tempo Ma poi in un anno Secondo Chiunque lo recupera Perché d'altronde È alto un metro E nulla E per esempio Se vedete questa clip Di fianco a Firmino Sembrava veramente Suo figlio Minuscolo Il bambino Che gioca con gli adulti È letteralmente minuscolo E questo è un problema Perché in termini Di velocità Puoi avere tutta L'accelerazione del mondo Tutta la velocità del mondo Ma se le gambe sono corte Non puoi aspettarti Che raggiunga velocità assurde Su un gioco come FIFA Però all'accelerata Si sente Se l'ha utili In maniera intelligente A livello finalizzativo Non mi ha fatto impazzire Ora C'è stata una partita Che pur di farlo segnare Poi abbiamo fatto un bel gol Abbiamo finalizzato un bel gol A momenti Buttavo la partita Perché pur di Traiardare Tiri con lui Ho rischiato Veramente Di buttare una partita Poi alla fine Se l'ha cavata Però anche visto Che è molto spesso Talmente agile E talmente forte Del dribbling Che tra un po' Se salta pure da solo Fate attenzione A sfruttare il suo dribbling Perché è talmente Pazzesco Ha un'agilità Una fluidità in movimento Che è assurda Perché così come Non riesce a essere velocissimo Per via della sua bassezza Diventa però Estremamente agile Con un dribbling Davvero incredibile Quindi da questo Punto di vista È un giocatore Di un'affidabilità Di dribbling E di fluidità in movimento Davvero incredibile E non fa assolutamente Sentire la mancanza Della stella skill Perché è talmente agile Che con questo Sopperisce ogni problema Ritornando sul tiro Abbiamo parlato Del tiro a gire Dal punto di vista Del tiro a gire Non ne ho assegnati Così tanti Mi aspettavo Un po' di più Sarò onesto Mi aspettavo un po' Il tiro a giro Alla Messi In termini di quantità Di gol segnati Li fa ogni tanto Ma non a quel livello Ancora comunque Un buon tiro a giro Assolutamente È roba sua Quindi se non li faceva Lui che cazzo gli fa Grandi giocatori Di impostazione Passaggio ottimo Lancioni Si alla cava Veramente benissimo Fa dei lanci Veramente pazzeschi Quindi da quel punto di vista Mi è piaciuto molto Alle 1-1 triangolo È proprio roba sua Ogni altro genere Passaggio Filtrati bassi Passaggi tesi Comunque molto preciso E riesce a trovare spazi Anche dove non ci sono Come COS Mi piace Comunque Il suo lo fa Non è facile da usare Non è un giocatore da corsa È un giocatore da Stop il pallone Mando in profondità Quagliarella Ti giri Cerchi il tiro a giro Punti l'uomo Lo salti Ecco il giocatore lì Come trequartista Non mi ha fatto impazzire Ha tutte le carte regola Per esserlo Ma è troppo piccolo E non regge minimamente Quando gli arrivano Tanti giocatori vicino Lo spostano Veramente soffiandoli addosso È utilizzabile come trequartista Sì Ma non mi ha fatto impazzire È consigliato nostra carta Anche qua c'è il solito problema Come stare nei sinistri Quelli forti Erano tutti a sbloccare Tipo Peris C'era un SBC Di conseguenza Anche qua Lui riesce a trovare Il suo spazio Anche perché Si upgrida Rispetto a tutte le altre Insomma Versioni che erano uscite Quindi sicuramente Una buona carta Ma niente Anche qua di pazzesco Quindi occhio Non spenderci troppo Perché da qua I tozzo Sicuramente I tozzo Ci era qualcosa Meglio Quindi fate scendere Un attimino Il prezzo E una buona carta È sicuramente Utilizzabile Confermo come stile Intesa cacciatore Per via dell'upgrade Invece da scatto In finalizzazione Bene Dato che ormai Si sono fatte le 5 Io vi saluto Vi prego Lasciate almeno un like E non fate morire Questo video Perché già Sto per morire io Per la stanchezza Addio Per la stanza